Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlo di Chievo Juventus, ventiduesima se non erro a partita di campionato, una partita che sulla carta difficilmente è facile, scusate il gioco di parole, perché Chievo si sa che è squadra ostica perché è molto solita a difendersi bene, difendersi tanto e bene, oggi si è divisa tanto e bene e anche troppo perché chiaramente come sappiamo tutti è rimasto in 9 e talvolta le squadre che rimangono in 10-9 uomini difendono più che in 11, talvolta le partite sono difficili per questo motivo qua. Poi parliamo anche di quelle che sono un po' le questioni che sicuramente balzeranno all'occhio degli opinionisti, massimi, esperti, social, ma anche e soprattutto ovviamente degli anti-juventini che oggi avranno modo di polemizzare sul nulla, ma di polemizzare. Partiamo di principio con la popolarisima più tattica e tecnica della partita, oggi 4-3-3, tridente di centrocampo con Sturaro al posto di Maturi che di Rappianic, difesa oggi più o meno la stessa con De Sciglio che torna in campo, a Samoa sulla sinistra e Barzagli al posto di Chiellini con bene al TA sempre. Chesley confermato nonostante sia il ritorno di Buffon che domani compie 40 anni, quindi non faccio adesso le augure a Buffon perché porta male, ma comunque un buon ritorno, un bellissimo ritorno, anche se in panchina. Davanti Mazzucic esterno, ovviamente per la felicità di Dani o di Goglio Gobbo, Dani con l'escosta e ovviamente Iguain. Iguain che torna al gol dopo 705 minuti, se non erro, da quanto dicevano in telecronaca, quindi dopo una miriade di tempo, tra l'altro un gol ovviamente anche facile perché nella condizione in cui è arrivato non si poteva non farlo, più il primo gol che è di Chedira, Chedira che fa questa fucilata, ovviamente sull'assist di Bernardeschi subentrato nel secondo tempo. Una partita che inizia abbastanza calma con un Chievo che praticamente arriva nella metacampo della Juventus solo in un'occasione con quel calcio d'angolo, per la resta di Juventus sembra avuto possesso palla, abbiamo avuto un primo tempo di possesso palla, tranne forse due tiri, due tiri uno da distanza di Chedira, se non erro, un altro che non ricordo, ma molto molto possesso palla. Partita brutta e noiosa per tutti i 90 minuti, nel secondo tempo ancora di più perché questo possesso palla è diventato un giro palla appena di fuori dell'area di rigolo di Chievo, perché? Perché rimanendo in nove hanno fatto difesa. C'è dire che nel primo tempo abbiamo stato molto bravo Deinelli a tenersi Iguain, Iguain che comunque oggi non ha giocato benissimo, anche quando ha avuto l'occasione di fare delle cose interessanti non le ha fatte, tranne il gol facile facile. Però devo dire che nel primo tempo ha avuto questo Deinelli che l'ha pressato costantemente per tutti i 45 minuti. Poi ovviamente le cose sono un po' cambiate perché i 6.9 hanno tolto praticamente i giocatori a centrocampo in attacco per schierarli tutti dietro. Espulsioni, parliamo delle due espulsioni perché poi alla fine è un argomento che fosse più interessante perché oggi abbiamo visto Cosmo, Juventus che ha fatto tanto posto-palla con un Allegri che voleva sempre posto-palla più veloce che non arrivava mai perché come diceva Balzarini e Comperia Bella c'era Allegri che chiedeva posto-palla, un giro palla veloce, un giro palla veloce che solo in poca occasione avevamo visto fare quindi i giocatori evidentemente, diciamo che un po' perché l'avversario da quello che era in quel momento a livello psicologico non è che lì si è riuscito benissimo. C'è dire che molti giocatori, quelli non brevi linei, quindi Manzuki e Ciccadira sono ancora molto sulle gambe e forse anche lo stesso Guain direi Douglas Costa, no, Douglas Costa è un giocatore brevi lineo che oggi è stato il migliore in campo sicuramente per nettamente il migliore in campo perché è un giocatore che ha trovato la forma e perché ha brevi linee quindi ha molta facilità in questo senso. Parliamo delle polemiche. Premessa, Maresca oggi ha arbitratto no bene di più. Io ero, forse tutti noi erano un po' prevenuti perché Maresca di Napoli, della sezione di Napoli, quando c'è Maresca della sezione di Napoli si ha sempre questo pregiudizio. Pregudizio che secondo me può andare bene solo per Guida, non perché sia di Napoli, ma perché Guida secondo me è un incompetente. Maresca oggi però ha arbitrato molto bene. Quindi ovviamente per noi ventini dobbiamo non essere grati ma toglierci questo pregiudizio iniziale perché in effetti bisogna riconoscere a Maresca il fatto che ha arbitrato molto bene, ma non perché gli episodi sono stati a favore nostro con l'espulsione di Chievo, ma perché oggettivamente c'è regolamento alla mano, è giusto così. Fino a primo tempo ho guardato un tweet dell'arbitro su Twitter, non mi ricordo mai il nome, che praticamente confermava il fatto che giustamente quella decisione dell'espulsione di Bastien fosse sacrosanta, regolamento alla mano. Cioè non c'era nessun motivo di appellarsi a chissà cosa. E' giusta anche la seconda, perché? Perché secondo me Maresca ha tenuto un atteggiamento molto severo, severo ma giusto, come ha detto Bergonzi negli studi di Mediaset, severo ma giusto perché ha fatto tutto quello che ha dovuto fare in un tono severo. Il giallo, il primo giallo che arriva è quello del Samoa, che oggettivamente io non l'avevo dato con una tenuta un po' più tranquilla dell'arbitraggio, invece l'ha dato e da lì si è basato su questo giallo e tutti i gialli che doveva dare. Ma ovviamente il primo di Bastien è una genuità, è proprio stupido dalla base come è arrivato questo doppio giallo, perché fai un fallo arancione, l'arancione, e poi fai trattenuta dopo 5 minuti con il giocatore avviato verso la porta, cioè davanti all'arbitro, doppio giallo. Cioè dei scu 3? No. Il caso fosse un po' più delicato è quello di Cacciatore, che secondo me è un pirla totale, perché Cacciatore è quello che noi conosciamo per la risultanza, si è divertente, fa ridere, poi in effetti forse la risultanza mi spiega un po' quello che è anche l'intelligenza di questo personaggio. Un giocatore che va a terra dopo il colpo di testa parlato da Shesny, va a terra sempre con questo discorso che va a terra un po' per niente, ma in realtà sappiamo che non si era fatto questa cosa, un po' come tu i giocatori con la terra, ma cosa fa? Il gioco prosegue, perché sappiamo che arbitro non fischia, il gioco prosegue tranquillo, pacifico, regolamento alla mano e così, quindi inizia tante cose. Anche perché non c'era nessun colpo alla testa, quindi non era preoccupante. Cosa fa questo Cacciatore? Poi ovviamente torna quando l'azione finisce, torna di là e ovviamente regolamento alla mano, Mareschi lo fa uscire perché è entrato lo staff medico, ma non si è uscito come da regolamento, ma si è rimasto dentro. Polemiche, polemiche, prende il giallo e poi fa questo gesto delle manette. Interpretazione? Sicuramente quella di Mareschi è stata una specie di... alla Murigno, però Murigno, Murigno, Cacciatore, Cacciatore, quindi parliamoci chiaro, se lo fa Murigno, diciamo che per quanto possa essere bellato il gesto di per sé, o comunque un po' esagerato, lo fa pur sempre Murigno. Se lo fa Cacciatore, cioè voglio dire ragazzi, Cacciatore che fa così, ti mette anche il rosso alla fine. All'edà di quello, questo è uguale a quello che è successo con Manto, che si fa il baffa all'arbitro di quella partita della casta espulso, per dobbia munizione appunto, è uguale. Mancare rispetto all'arbitro è sanzionabile. Non tutti lo fanno, sono quelli che non hanno il polso di farlo, l'ha fatto. E ha fatto avuto coraggio perché aveva già espulso un personaggio prima, e così via. I falli oggi li ha fischiati tutti da una parte e dall'altra, quindi Manesca ha arbitrato benissimo. Poi sommiamoci anche il fatto che forse è troppo buono anche secondo me con Maggiorini che entra e fa due fallacci esanzionati come falli, anzi uno neanche come falli ma come scontro fortuito di gioco, da quando ho capito, quindi forse l'errore è solo quello, perché secondo me Maggiorini come entrato l'avrebbe fatto uscire dal campo. Quindi se questo è l'errore, forse la penalizzazione è a favore della Juventus, ma ovviamente non ci appelliamo questa cosa perché chiaramente hanno G9 e abbiamo vinto da 0, ma per dire che se non trovo un errore sicuramente non è quello in due falli concessi, cioè falli rossi concessi a sfavore del Chievo, ma questa cosa qua. L'unica per trovare l'ago nel pagliaio. Ma non lo troviamo, lo dico giusto per esattezza, ma l'infamia di Maggiorini è sicuramente più sanzionabile alla pari delle altre, se non di più, e non è stato fatto perché comunque poi Maggiorini ha fatto un po' il furbo, ma nel replay si vedeva qualcos'altro. Dentro questo ragazzi, bene così per i tre punti, male per alcune cose ancora a livello fisico, perché manca ancora molto a una forma fisica giusta, esemplare, nel senso che quelli che più grossetti sono un po' in difficoltà. Poi sono subietrati Bernardeschi, Licksteiner, e Bernardeschi male a della dell'assist, Licksteiner va bene, ha fatto poca cosa, quindi insomma i giocatori così, ben tranquillo, diciamo che alla fine questo è tutto. Diciamo che è difficile analizzare una partita bene in un momento in cui si giocano contro nove persone, e contro il Chievo di per sé che è difensivista, a prescindere da quanti sono in campo, e non fa esprimare a Juventus il suo gioco. Credo che il gioco da Juventus va devalutato in partite in cui anche gli altri avversari giocano, e lì si vede chi fa il gioco più efficiente, o più efficace. Va bene, insomma, decidete voi. Forza di gioco come sempre, e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.